Io sarò l'ultimo vicere dell'India e ricoprirò questa carica con immenso orgoglio. Restituisci una nazione alla sua gente. Che difficoltà potranno esserci? Stai creando il futuro. Stiamo. Non dobbiamo combinare pasticci. Jit Kumar, lui è nuovo. Allora abbiamo qualcosa in comune. Crede che l'India sia pronta per l'indipendenza? Abbiamo imparato dai migliori. Da ora in poi ci saranno più indiani di ogni fede seduti alla nostra tavola. Possiamo cambiare tante cose e dobbiamo assolutamente farlo. Cos'è te sfinirai? Piuttosto sfinirò te. 300 milioni di hindù e di Sikh vogliono un'India unita. 100 milioni di musulmani no. Si danza con la propria gente. La propria gente? Portale rispetto. Che hai detto? Hai sentito? Quali che siano le differenze tra loro, tutti gli indiani hanno un desiderio comune. E quale? Vogliono solo liberarsi di noi. Tuo padre mi ha insegnato che il futuro è quello che noi creiamo. Siamo fratelli con un'unica anima. Senza la pace tutti gli altri sogni svaniscono e vengono ridotti in cenere. Non so cosa fare. Apparteniamo l'una all'altro. Lei ha usato me e la mia famiglia. Siamo qui per restituire la libertà all'India, non per smembrarla. Siamo qui. Siamo qui. Grazie a tutti.